e questa dunque la nuova piazza volta di oggi come potete vedere da questa mattina sono state rifatte le strisce ci sono ancora i vigili che stanno controllando qualche indicazione ovviamente le automobilistiche ancora non lo sanno ci sono anche i cartelli che sono comparsi come avete visto proprio nelle ultime ore che indicano che da oggi da qui è una zona a traffico limitato se lei dice che non va a fare la pensione di fare la pensione non siamo rosa non possiamo rosa non possiamo rosa però siccome il piano è un bambino e 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